Legalità parliamone. Il convegno davvero interessante, soprattutto di estrema attualità, organizzato dal COISP Polizia di Pescara con il patrocinio della provincia di Pescara e la collaborazione dell'Istituto REA e di FIJEC Abruzzo Cisal. Si è parlato di sicurezza, tema indissolubilmente legato a quello della legalità. Ha concluso i lavori il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni. Onorevole, la sicurezza è una priorità. Più Stato significa più sicurezza e nel contempo più legalità. Assolutamente sì. Tocca allo Stato garantire sicurezza, tocca allo Stato garantire legalità, tocca al Governo investire sulla sicurezza e sulla legalità. Come si investe in sicurezza e in legalità? Difendendo i presidi di sicurezza sui territori, rafforzando gli organici delle forze di polizia, mettendo gli operatori delle forze dell'ordine nelle condizioni di poter fare bene e sempre meglio il proprio mestiere. La Polizia di Stato è un orgoglio nazionale. Tocca alla politica renderla e metterla nelle migliori condizioni possibili per operare. In generale lo strumento repressivo può bastare o serve anche maggiore prevenzione? No, io credo che per garantire sicurezza e legalità sui territori serva il combinato disposto dello strumento repressivo e quindi dell'attività da parte delle forze di polizia attraverso il controllo del territorio e il contrasto alle forme di criminalità, ma imprescindibile e indispensabile è l'attività di prevenzione. Per questo noi dobbiamo lavorare sulle dotazioni organiche delle forze di polizia, dobbiamo rafforzare gli organici e dobbiamo rafforzare anche quel concetto di sicurezza partecipata, ovvero coinvolgere i territori, le amministrazioni locali, le polizie locali. A proposito, entro il 2030 andranno in pensione 40.000 agenti. E questo è un problema. I tagli del passato, le chiusure del passato hanno rappresentato un corpo mortale per la Polizia di Stato. Questo governo invece vuole investire sulla sicurezza. La sicurezza non è un costo, non può essere un costo. La sicurezza è un investimento e una risorsa. Nell'ultima legge di bilancio 100 milioni di euro all'anno per 10 anni per rafforzare gli organici delle forze di polizia. Noi dobbiamo non soltanto rafforzare gli organici, dobbiamo rinnovare il contratto, dobbiamo aumentare le tutele e previdenza. Che istantanea avete in Ministero dell'Abruzzo? Serve attenzione. Qui ci sono delle forme di criminalità rispetto a quelle lo Stato non può fare passi indietro. Adesso per il periodo estivo arriveranno dei rinforzi estivi soprattutto nelle località turistiche. C'è un piano di assunzioni per le questure e per le specialità che vedrà coinvolta anche la questura di Pescara e il territorio di Pescara. C'è un'azione a 360 gradi di investimenti importanti sulla sicurezza. Un Paese e un Governo che non investe sulla sicurezza è un Paese che non investe sulla civiltà. Sicurezza e libertà, sicurezza e coesione sociale. Lo Stato e il Governo Meloni da questo punto di vista e il Ministro Piantadosi in modo particolare sono fortemente impegnati.